buon pomeriggio ragazzi sono Michele vi volevo soltanto far vedere come io ho tolto il gioco con il perno che va nella mano vi faccio vedere ho preso uno R un o-ring eccolo qui un gommino la misura è semplicemente quella che si adatta perfettamente perfettamente all'interno del foro quindi la mettete dentro se calza perfettamente al pennello spingete giù se non deve essere sforzato e deve entrare da solo così nel senso che lo accompagnate lui va ecco qui è all'interno e poi fate semplicemente quello che avete fatto prima inserite ecco fatto e la mano è rigida per quanto riguarda invece lo snodo non che va dall'ogiva cioè dalla pallina all'interno della mano ma quello che parte proprio dal polso allora io certo è un po tardivo adesso perché molti avranno già chiuso questo pezzo ma questi pezzi qui questi scusate ecco qui non vanno mai chiusi finché non siete sicuri ve lo dico non vanno mai chiusi perché molti non hanno fatto poi vi farò vedere come levare anche il gioco all'interno del gomito cioè no il gioco chiudo scusa mettere più attrito e renderlo appunto duro da muovere e non che vada giù da solo come si vede in tanti video perché con le plastichine che ci danno loro non è possibile farlo stare su quando c'è tutto il peso della mano comunque per poter arrivare a queste viti smontare poi ovviamente smontare anche il gomito perché diversamente non lo potete più aprire chi ha già pressato questi pezzi qui questi come anche vi faccio vedere ok come anche questo il muscolo qui che io non ho messo proprio perché ci permette poi di svitare queste due viti e andare di nuovo qualora dopo l'assestamento non ci piace ancora perché cade da solo qua è durissimo ve lo assicuro guardate non va giù da qui potete aprire quante volte volete e andare a stringere sempre di più finché si assesta bene comunque penso che molti lo avranno già inserito perché hanno fretta di montarlo o perché non ci hanno pensato per staccarlo e poter quindi arrivare a queste viti cioè questo chiaramente non mi dà la certezza che non si rompiranno i perni ve lo dico subito né questi e né questi tre qui si possono rompere ugualmente però io ho usato la prima volta quando ho montato il primo pezzo ho usato uno spessimetro 010 o 05 io ho usato lo 010 perché riesco a spingerlo e far entrare dentro cioè fate così praticamente allora mettiamo il caso che avete già montato questo pezzo e come lo togliete adesso non l'ho presso perché sennò poi devo rifare tutto allora prendete questo è montato adesso come ripeto questo non è fino in fondo ma voi magari l'avete già inserito tutto allora prendete lo spessimetro aspettate sposto il braccio un attimo lo spessimetro prendete del nastro vi conviene quello trasparente perché se prendete quello da elettricista da troppo spessore poi fate fatica mettetelo solo un giro e ragazzi un giro perché più giri fate più aumenta lo spessore poi quindi fate uno e due basta e poi lo tagliate ok eccolo qua questo lo buttate ovviamente ecco qui quindi cosa fate poi successivamente andate e inserite qua sotto dove c'è lo spazio e vi assicuro che entra anche se avete prestato tanto piano piano la plastica scusate l'adesivo ve l'ho fatto mettere per evitare di rovinare la vernice sia quella dorata che magari quella rossa quella rossa è sotto ma quella dorata la la vedreste poi quindi inserite questo finché potete ok e poi tirate su non abbiate paura di rompere chiaramente lo spessimetro perché non si rompe acciaio chiaramente tirate su piano 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 quando vedete che si alza piano piano fate la stessa cosa dall'altra parte se entra se non entra insistete di qua e poi però vi fermate quando lui arriva così che vedete che è un po' aperto qui e con l'unghia piano piano la inserite e tirate su anche di qua perché se tirate su tutto qua spezzate quelli dietro una volta che avete fatto questo che avete ragato potete arrivare qui svitare e quindi accedere a quello che è il vano appunto poi del gomito quindi svitare la vite perché sennò diversamente non ce la fate la stessa cosa ovviamente per questo questo quando è chiuso lo inserite qui lo inserite un po' di qua e un po' di qua e tirate su piano dovete avere pazienza sennò li spaccate per i prossimi vedete io non ho messo nemmeno questi ancora perché voglio aspettare di montare tutto e vedere come la stabilità perché poi questo si può regolare se montate tutto e li rovinate quando andate a toglierli e poi vi farò vedere in un altro video come levare lo slittamento del gomito perché se potete vedere altri video cadono tutti le braccia perché ovviamente non basta quel dischetto che hanno messo liscio non basta tutto qua cosa mi rimane da dirvi l'irita ve l'ho già detto come togliere il gioco nel video che ho fatto precedentemente laddove ci fosse il gioco perché non è detto che ci sia non mi ricordo cosa anche dove ah poi vi farò vedere anche un video come aumentare la luminosità degli occhi se vi farà piacere poi aumentarla intanto ci stanno due batterie nel vano batterie una contro l'altra quindi chiaramente la potenza aumenta ma cambiando i led se non li bruciate ed è bellissimo fa più del doppio della luce mi sembra che per adesso sia tutto vi ricordo non guardate le qualità dei video ma quello che può servirvi come così come consiglio tutto qua ok non mi ricordo nient'altro è l'età ragazzi sì comunque ecco questo volevo dirvi non montate vi consiglio di non montare le parti che vanno a coprire le viti che vi permettono poi di accedere a quella che è la registrazione cioè stringere piuttosto che allentare ma ovviamente qui si parla solo di dover stringere perché se non scivola non abbiate fretta di mettere questi questi ok li mettete alla fine tanto basta solo clic e vanno dentro però se li mettete poi rischiate di romperli eh lo so me lo sto ripetendo così potete smontare quante volte avete volete queste viti qui ok ciao ragazzi